Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Partiamo subito con i titoli degli argomenti che tratteremo all'interno di questa puntata. Polo siderurgico di Piombino, approvate all'unanimità due mozioni. Sostegni al sistema neve del mobile e ai cammini regionali. Alta velocità ad Arezzo. Ricollocamenti e formazione professionale, presentata una mozione. Sono state approvate dall'aula all'unanimità. Parliamo delle due mozioni, una presentata dal Partito Democratico e l'altra dal gruppo Fratelli d'Italia, per la salvaguardia e il rilancio del polo siderurgico di Piombino. Mettiamo una serie di obiettivi che mettono insieme il futuro dello stabilimento, direi degli stabilimenti, perché accanto c'è la Magona, secondo una visione industriale siderurgica evoluta, con un forno elettrico, con una produzione flessibile e ambientalizzata di acciaio. Il tema del risanamento ambientale, quindi le bonifiche, l'economia circolare e il riuso delle materie seconde. Il tema delle relazioni con il porto e il tema degli spazi, quindi liberazione degli spazi per la diversificazione economica del territorio e l'insediamento di nuove attività produttive, magari a più basso impatto ambientale. E poi c'è il tema infrastrutturale, con la bretella, che partirà nel primo tratto fra breve, è già stata appaltata, e nel secondo tratto abbiamo conquistato il finanziamento per l'ultimo miglio del PNRR. Il Consiglio regionale tutto all'unanimità ribadisca un concetto, ovvero che Piombino è un sito siderurgico che ha le potenzialità per essere eccellenza nazionale ed eccellenza internazionale, perché Piombino ha tutte le carte in regola, non come dicevo prima per essere salvato per elemosino o per gentile concessione. Piombino può diventare il primo sito siderurgico d'Italia e forse tra i primi d'Europa ad avere un forno completamente elettrico da un milione e mezzo di tonnellate annue, che è una produzione incredibile e che classificherebbe il sito di Piombino come un'eccellenza non solo da un punto di vista produttivo, ma anche da un punto di vista della transizione ecologica, visto che in questo momento si fa un gran parlare di transizione ecologica. Cioè immaginatevi un sito siderurgico e nell'immaginario collettivo è quanto di più impattante e inquinante possa esistere che lavora ed è l'unico sito in Italia per esempio che produce rotaie, tanto per fare un esempio, che ha una produzione di tutto rispetto e che lo fa in maniera ecologica. Abbiamo votato anche unitariamente due atti importanti sia della maggioranza che dell'opposizione per far sì e dare un segnale che il Consiglio regionale spinga affinché il Governo trovi una soluzione adeguata. Questo credo che sia necessario anche con un tavolo che comprenda tutte le amministrazioni e i vari ministeri interessati. Chiaramente in questo anche il Comune di Piombino sta svolgendo una posizione, una parte molto positiva con l'attuale pianificazione urbanistica e il piano strutturale che sta ponendo in essere. Sostenere il progetto di Volterra, città toscana della cultura 2022. È stata approvata una mozione, primo firmatario Andrea Pieroni del Partito Democratico, che impegna la Giunta a sostenere economicamente il progetto. Voto contrario di Forza Italia. Io ho presentato una mozione proprio su Volterra, città toscana della cultura per il 2022, perché abbiamo apprezzato tantissimo l'idea, la proposta del Presidente Gianni, fra l'altro condivisa dal Ministro Franceschini, che pochi giorni fa è venuto proprio a Volterra in visita, di fare di Volterra la prima città toscana della cultura. Un progetto che avrà una durata almeno decennale. perché Volterra? Perché Volterra ha già fatto un lavoro straordinario, predisponendo quel progetto Rigenerazione Umana, che gli ha consentito di entrare fra le dieci finaliste nel percorso verso la capitale italiana della cultura. Poi è stata scelta procida, però per Volterra entrare fra le dieci prime città candidate è già un successo. Quindi noi riteniamo che quel lavoro vada valorizzato, condividiamo in maniera forte l'idea di Gianni, ma occorre anche dargli le gambe. Ci sono due proposte di cui io sono il primo firmatario, altre due presentate dalla Giunta, che prevedono l'istituzione della capitale toscana dello sport, della capitale toscana della cultura. Ogni anno un bando per selezionare quale città dovrà avere questo titolo, che sarà un titolo prestigioso. Per il 2022 però entrambe le proposte, sia quelle sottoscritte da sottoscritto che quelle della Giunta, prevedono di dare a Volterra il titolo di capitale toscana della cultura e da Betone Cutigliano il titolo di capitale toscana dello sport. Volterra per meriti, per quanto ha fatto di buono rispetto alla selezione nazionale, a Betone Cutigliano anche in questo caso per merito. Voglio ricordare che il 2022 è il settantesimo anniversario dalla vittoria olimpica di Zeno Colò in discesa libera, l'unico italiano ad aver vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi in discesa libera, ma anche come segno di ristoro rispetto agli ultimi due inverni che sono stati tragici con la montagna chiusa e quindi perdere anche questo segno di ripartenza. Sistema neve, del mobile e cammini regionali. Sono i tre settori fortemente colpiti dall'emergenza Covid per i quali il Consiglio regionale ha votato interventi specifici. La proposta di legge è stata approvata a maggioranza con 29 voti favorevoli e i due contrari del Movimento 5 Stelle. Il settore neve sicuramente merita sostegno, però attenzione perché ogni anno, da quando almeno io sono all'interno del Consiglio, quindi sono sei anni, vengono presentati dei contributi, una tantum al sistema neve. E allora, credo, a questo punto di cercare di promuovere una diversificazione anche del tipo di turismo e delle attività che vengono fatte, perché altrimenti si rischia di rincorrere sempre di più i proventi mancati di una stagione sciistica che per il clima diventa sempre più corta. I cammini regionali anch'essi hanno ricevuto negli anni spesso dei contributi. È giusto continuare a darli perché i cammini sono sicuramente una risorsa per il turismo lento in regione toscana che è valorizzata. Pensiamo al cammino di Santiago di Compostela può essere una grande risorsa sotto tanti profili, però bisogna anche vedere come vengono spesi questi soldi perché appunto questo non è certo il primo contributo. Assolutamente è spiegabile il contributo al centro sperimentale del mobile della provincia di Siena, 150 mila euro per un progetto di internazionalizzazione che in pratica non verrebbe nemmeno attuato dallo stesso centro, ma verrebbe in pratica appalmattato all'università e soprattutto non si capisce l'arbitrarietà con cui è stato scelto di promuovere quel distretto piuttosto che altri. Cascina, la mia città e Perignano, altre zone pisane, hanno dei centri di assoluta eccellenza, lo stesso posso dire di Quarrata, di mille altre attività toscane di artigianato e di eccellenza da internalizzare. Internazionalizzazione che tra l'altro fa già la Camera di Commercio e fa già la Regione Toscana con le sue agenzie. Perché regalare 150 mila euro quindi a questa società che ricordo è un SRL? L'assessore non ha saputo risponderci. Siamo innanzitutto di fronte a un provvedimento che dal nostro punto di vista pecca per quanto riguarda appunto lo stile quantomeno della normazione. si è cercato di fare un unico calderone mettendo insieme settori diversi. Dal nostro punto di vista è chiaro che in questo momento in particolare ogni forma di sostegno economico che appunto si è messo in campo dalla Regione su certi tipi di settori ci vede favorevoli. Dall'altra però non possiamo che censurare questo tipo di frenesia normativa mettiamola così. Da una parte sostegno al sistema neve dall'altra ci mettiamo anche dentro il sostegno al settore del mobile e infine riusciamo a ritrovare alcune risorse per sostenere i cammini quindi i progetti sui cammini dei comuni. È chiaro che di fronte a questo stile normativo occorreva a nostro avviso una maggiore organicità anche perché altrimenti si perde quell'intento che può essere sicuramente condivisibile di sostenere determinati settori. Qui è mancata una certa organicità e questo ci sentiamo di censurarli. Oltre un milione di euro di risorse importanti per i settori produttivi della Toscana e in particolar modo riguardano il settore sciistico, gli impianti la neve ha sofferto, la montagna in un momento così delicato 800 mila euro, uno stanziamento importante per andare a rifinanziare gli impianti se penso anche al territorio di Siena di Pistoia, le montagne della Toscana principali e non solo. Ovviamente risorse importanti per quanto riguarda il design, il mondo del mobile il centro sperimentale mobile di Poggi Bonzi è un'eccellenza ormai a livello nazionale sarà volano dello sviluppo del design dell'arredamento per quanto riguarda la Toscana nel mondo con un finanziamento straordinario di 150 mila euro e poi oltre 200 mila euro a favore dei bandi dei finanziamenti per quanto riguarda legge sui cammini per quei progetti che i comuni avevano presentati ma non erano stati finanziati. Quindi si tratta di un pacchetto economico di un milione di euro sul quale daranno fiato alla nostra economia toscana. Sì, si tratta di una norma che abbiamo accelerato poiché in particolare sul sistema neve dove si stanziano 800 mila euro vanno proprio a compensare quel sistema neve che ha sofferto anche a causa della pandemia per la chiusura della stagione. Quindi queste somme per investimenti serviranno tutti i gestori a tutto quel sistema che ha sofferto pesantemente in questi anni. È una somma cospicua che speriamo vada a sollevare le sorti di queste aree e l'abbiamo fatto in modo da poterne beneficiare entro fine anno altrimenti si sarebbe scavallato poi l'anno. È uno degli aiuti dei sostegni più grossi di questi ultimi mesi. Insieme a questo si affianca il sistema del design quindi 150 mila euro che derivano da un accordo nazionale fatto con il Ministero degli Affari Esteri con il sistema delle Camere Estere con la Università di Architettura di Firenze e sono risorse che serviranno per l'internazionalizzazione quindi individuando un centro che fa da incubatore una sorta di incubatore per tutte le aziende sull'internazionalizzazione legata appunto al design e al sistema del mobile. L'ultimo ambito in cui abbiamo stanziato le risorse sono circa 230 mila euro si tratta dei cammini. Erano risorse che erano rimaste parzialmente utilizzate quindi c'era necessità da parte di molti comuni di avere queste risorse per poter continuare o terminare i lavori infrastrutturali quindi si tratta sempre di investimenti sui cammini presenti in Toscana voi sapete che ce ne sono tantissimi che sono un settore di grande risposta turistica in questo momento e che sono stati valorizzati in questi anni tantissimo dalla stessa regione. Queste risorse consentono a tanti comuni di poter continuare questi lavori che erano rimasti appunto parzialmente eseguiti. Potenziare le fermate dell'alta velocità per la stazione ferroviaria di Arezzo questo è il tema che il consigliere della Lega Marco Casucci porterà all'attenzione della quarta commissione nel corso delle prossime sedute. Posso già annunciare che in quarta commissione in una delle prossime sedute mi auguro il prima possibile verrà in discussione una mozione per chiedere il potenziamento della linea dell'alta velocità delle fermate sulla città di Arezzo città capoluogo di provincia che merita un'attenzione particolare certamente dando conto del fatto che c'è ancora una pandemia nel corso e quindi i tempi purtroppo saranno abbastanza lunghi ma chiediamo che come è stato fatto finora vi sia una attenzione particolare per il potenziamento dell'alta velocità sulla nostra città. Nel corso dell'ultima seduta del consiglio regionale a Palazzo del Pegaso a Firenze si è parlato di un argomento di estrema attualità mi riferisco al tema del lavoro con la problematica del ricollocamento dei finanziamenti e soprattutto della mancanza di personale qualificato lei Veneri ha presentato una mozione proprio su questi temi cercare una soluzione alla ricollocazione di tutti i posti di lavoro che si perdono in Toscana attualmente si parla sempre di decreti anti-delocalizzazioni perché nella nostra Toscana ci sono tante aziende che poi a un certo punto fiaccate dalla burocrazia fiaccate dalla mancanza di infrastrutture fiaccate dall'altissima tassazione che è nel nostro paese decidono di abbandonare per rivolgersi a territori più diciamo accoglienti chiamiamoli così e le persone che lavorano in questa azienda purtroppo dall'oggi al domani si ritrovano senza lavoro quindi io ho fatto una mozione che praticamente cerca di mettere in connessione due esigenze importantissime che ci sono nei nostri territori una è quella appunto di ricollocare le persone che perdono lavoro e l'altra è quella di creare delle persone formate per poter essere inserite nel mondo del lavoro invece che lo richiede se la regione toscana intercettasse tutte quelle che sono le esigenze delle imprese che cercano personale e facesse uno screening di quelle che sono le professionalità più richieste e andasse a intercettare invece le persone che perdono il lavoro le formasse e le presentasse alle aziende che le stanno cercando sarebbe una soluzione con un'unica soluzione diciamo per due problemi uno chi cerca personale e uno chi perde il lavoro la nostra mozione non è stata votata è stata da me presentata e discussa in aula e poi però la maggioranza mi ha chiesto di rimandarla in commissione per crearne uno strumento di lavoro da approfondire e creare un atto unico ed è tutto questa era la nostra ultima intervista grazie per la cortesia attenzione cronache e commenti torna la prossima settimana grazie per la visione